bella a tutti ragazzi qui Enrici e oggi siamo qui col secondo episodio che vi avevo promesso con la carriera con i mercenari e ragazzi siamo a luglio come vedete seconda stagione ho preso un po' di vostre idee veramente interessanti ho già fatto alcune offerte quindi insieme mano mano ci vediamo un po' cosa succede allora la Juventus ragazzi ha accettato 10 milioni più Sterling per prendere Alexandro a noi serviva assolutamente un terzino sinistro Alexandro praticamente si può dire che me l'avete consigliato tutti magari qualcuno mi ha detto Alaba questi giocatori qui però molti mi hanno detto Alexandro stavo provando a prendere anche Alvaro Morata scambiandolo con Ibra ma non me lo vogliono dare provo a offrire 10 milioni più Ibra Imovic altre due mail ragazzi sto provando a prendere sicuramente Emre Can scambiandolo con Ibra che ormai è un po' avanti con l'età per il momento lascio perdere ma è stato accettato 20 milioni più Fabregas e questo ragazzi è un colpaccio per il centrocampo magari potrebbero essere simili come i giocatori ma Modric è sicuramente un giocatore più tuttofare definiamolo così quindi bisogna stare attenti per Emre Can ragazzi non voglio mettere Ibra ma voglio aspettate fatemelo togliere voglio provare a offrire 20 milioni secchi e vedere che mi dicono ok ragazzi altro acquisto sensazionale lui un po' più giovane scambio a zero con Pai per Marco Asensio per lui offriamo 140 mila di stipendio e giocatore chiave prima squadra questo è normalissimo poi vediamo offerta troppo bassa per Alaba oddio questi vogliono 111 milioni puoi tenertelo tanto ci siamo già presi Alexandro offerta accettato ragazzi sapevo che avevo accettato primo acquisto ufficiale della nostra carriera mercenari Alexandro è il nostro terzino sinistro ragazzi sto chiedendo un po' di informazioni per alcuni talentini perché servono sempre vediamo un po' allora Emre Can ha rifiutato vediamo tutto in live con voi 52 milioni un po' troppo noi andiamo sempre a ribasso 15 milioni più Ibra per Morata perché se dobbiamo fare questo scambio ci deve convenire per Grabri oddio pensavo mi chiedessero un po' di più questo è un gran bel giocatore ragazzi io voglio provare sui 6 milioni e mezzo altrimenti possa aumentare anche un pochettino l'asticella poi Kimbembe 8 milioni e mezzo buono lui vediamo anche lui a 6 e mezzo sulla ultima casa rinforziamo un po' questa rosa nel caso ci serve la terza stagione poi Cyprien grande giocatore anche lui vado tutti sui 2 milioni in meno di quanto mi chiedono più o meno per vedere se riusciamo a prenderli vabbè Odegaard parte troppo basso un bappello 10 eppure lui parte troppo basso però dai un bappello 10 a questa cifra magari si può provare dai allora avanziamo un po' vediamo che succede uh attenzione Marco Asensio preso scambio a 0 con Dimitri Payet quindi la nostra rosa si sta un po' modificando e poi preso ragazzi anche Luca Modric e andiamo così e andiamo così li andiamo subito subito ragazzi a mettere il campo nel frattempo c'è anche una richiesta per lo Celso che qualora non prendevo non avessi preso Modric scusate Asensio ci avrei pensato su però magari dai teniamocelo caldo poi per Rashford 23 milioni questo è un bel colpettino eh però voglio andare sui 15 milioni non voglio strafare e ora ragazzi insieme a voi voglio mettere assolutamente in campo anzi non in campo magari anche come sostituto in campo sicuramente Modric già me l'ha messo perfetto però come sostituto ah ecco teniamo una panchina abbastanza corta come sostituto Asensio ragazzi è qualcosa di fenomenale dai proseguiamo così tante offerte accettate ragazzi allora bappello 10 ci sta ci sta questa cifra vi ripeto anche per aumentare un po' la lista della squadra perché altrimenti siamo con giocatori troppo corti un po' la rosa diciamo non proprio così e poi anche Ciprienne tantissimi talentini ragazzi mi raccomando io vi ricordo che su FIFA 18 faremo è perché ho messo lo scurato le chiave faremo la carriera col Bari qualora non aveste visto il video anche chi bebbe buono dove presento appunto la squadra e mi raccomando ragazzi dovete stare attenti perché questi giocatori andrebbero benissimo a Bari ma non avremo tutti questi soldi quindi sarà fondamentale gestirci bene tutta quanta la situazione perché là sarà veramente dura nel frattempo vi sto facendo vedere un po' tutti i giocatori a cui sto chiedendo informazioni i contratti e via dicendo quindi ora avanziamo offerta trasferimento per Pjanic attenzione 53 milioni rifiuto tutto perché Pjanic è uno di quei mercenari che ci dobbiamo tenere assolutamente poi offerta troppo bassa per Rashford dai prova a salire fino sui 19 vediamo che dite caro United 3 mail ragazzi allora contratto rifiutato Bappelotè questo sicuramente perché gli ho offerto un ruolo troppo importante qualcuno nei commenti secondo me l'avrà già visto mettiamoci turnover anche se quello importante poteva essere valido però allora rifiuta qui ovviamente Cyprien però noi andiamo ad offrire il nostro ruolo mettiamoci anche lui turnover e vediamo che ci dice che comunque viene nel Tottenham in Premier League in Barclays Kim Bembe ha accettato quindi Kim Bembe ce lo portiamo a casa se anzi direi quarto più o meno si direi quarto acquisto ufficiale quindi la rosa si sta componendo abbastanza bene offerta trasferimento per Gutz eh 61 milioni vaga qua io senza saperne leggere e scrivere 91 milioni e mezzo ieri chiede a Real Madrid magari ce li ha nuovo giocatore in arrivo va bene così allora per Rashford 19 milioni accettati perfetto così alla grandissima allora no ho messo il giocatore chiave mannaggia Riti che fai vabbè ragazzi dopo la modifico per Gnabry 10 milioni e mezzo ma questi vogliono veramente tanti soldi dai 10 milioni e mezzo proprio no 9 9 possiamo ragionare ben 4 e me ragazzi allora arrivano offerte per Gutz e Delp anche al Bayern gli chiedo su dai facciamo 86 milioni ma voglio essere un po' più tranquillo per Delp anche qui facciamo una contro offerta bella tosta anche se non accetteranno mai ui Real Madrid qua alza un po' l'asticella dai caro Real Madrid allora 87 milioni per Gutz ci puoi arrivare ragazzi a fine FIFA ci stiamo un po' divertendo penso che l'abbiamo capito un po' tutti quanti Mbappé Lothè ora al PSG ce lo portiamo al nostro Tottenham virtuale anche direi Cyprien ce lo portiamo a casa direi perfetto quindi abbiamo rinforzato un po' la rosa con tanti nuovi giocatori soprattutto abbiamo un po' allungato questa rosa ragazzi finalmente mi ha accettato il contratto Gnabry però vado a modificare un po' il budget se no non mi fa offrire il contratto però almeno con lui siamo in trattativa oh ragazzi aumenta l'offerta in Real Madrid quindi è vicino magari agli 89 milioni che voglio occhio che Real Madrid a quelle cifre ci può arrivare quindi stiamo attenti ragazzi il Real Madrid ha desistito per Gutz ma noi ci andiamo a comprare il nostro Gnabry o Gnabry come dicono alcuni ora non so bene la pronuncia quindi ce lo portiamo a casa Pjanic vorrebbe il rinnovo del contratto Pjanic non dare fastidio nel frattempo vi faccio vedere un po' che si è allungata decisamente la rosa con questi giocatori che ok sono su 74-75 ma non sono affatto male sono giovani di grande prospettiva ragazzi nel frattempo che facciamo le nostre trattative c'è la partita Col City madonna il logo del Tottenham sparisce in questa grafica vediamo 1-1 dai Col City non è affatto male sono pure presi Tiago Alcantara se non ho visto male penso sia lui quindi non è male contratto accettato Morgan ragazzi un giocatore della primavera mi sono preso Tevez non l'ho fatto giocare ma non importa offerta accettata anche per Andreas Pereira questo altro giovane interessantissimo COC che può fare comodo qualora si rompesse magari qualcuno mettiamo giocatore per il True Norbert modifichiamo il budget e poi è arrivata anche un'altra email offerta rifiutata per Christensen va bene nel frattempo ci sta il Manchester United al 18 di agosto sapete che la Premier inizia molto molto prima sono curioso se riusciamo a vincere qui con lo United quel campionato potrebbe essere qualcosa di reale ok compriamoci il nostro Andreas Pereira anche lui come talentino si aggiunge alla nostra squadra io direi di andare a simulare qui anche un ex Pereira tra l'altro però ovviamente non lo facciamo giocare in questa partita 1 a 1 vabbè segna Iguain diciamo che in queste sfide stiamo andando un po' lenti stiamo carburando però abbiamo incontrato le due super potenze di Manchester quindi direi che ci può anche stare ci avviciniamo adesso alla fine del mercato siamo praticamente negli ultimi 6-7 giorni più o meno c'è anche la partita col Crystal Palace lì vediamo cosa ci dicono dalle email principalmente ragazzi non vorrei intervenire più di tanto perché comunque abbiamo lavorato bene vedete sta salendo anche l'overall secondo me ci siamo mossi bene poi vabbè abbiamo già uno squadrone abbiamo rinforzato dove serviva ora non ci resta che simularci tutta quanta la stagione e vedere se riusciamo a vincere questo benedetto campionato siamo saliti a 70 di overall va bene ragazzi io direi di andare adesso non voglio neanche simulare questa partita voglio togliermi il dubbio direi andare sul calendario direi di andare qui alla fine vediamo gennaio siamo arriviamo alla fine della partita l'ultima con l'Arsenal attenzione simuliamo fino a qui praticamente vediamo cosa tiriamo pure perfetto è il momento della verità vediamo 70 siamo statili vediamo che cosa abbiamo combinato finale di Champions League ragazzi ecco tanta roba tanta tanta roba attenzione vediamo in campionato invece come siamo messi perché ora sono curioso finale Real Madrid Tottenham e vediamo vediamo sono abbastanza curioso perché può essere successo di tutto ragazzi quindi occhio occhio Europa League ha vinto il Wolfsburg in finale con Sant'Etienne qui no e ragazzi che ve lo dico a fare ci siamo portati a casa la coppa campionato della Barcres Premier League e andiamo così di un punto sul sull'Arsenal quindi ragazzi che vi devo dire siamo andati veramente alla grandissima abbiamo rinforzato quel tanto che serviva e ragazzi siamo anche in finale di Champions assurdo ora possiamo cercare di fare l'unplan non so ecco negli Emirates FA Cup no siamo usciti ai quarti contro il Liverpool vediamo l'altra coppa vediamo no anche qui siamo usciti ai quarti con lo United però riuscire a fare Champions e riuscire a fare Champions League e campionato sarebbe qualcosa di assurdo poi anche con i vostri consigli oltre ai debiti talenti che ho preso io ma con i vostri consigli sarebbe veramente spettacolare ma già sono contentissimo per aver vinto il campionato perché veramente ragazzi cioè non lo so veramente siamo andati alla grandissima poi vediamo anche logicamente quanti col hanno fatto un po' tutti i giocatori ora dobbiamo simularci questa partita con Real perché veramente è qualcosa di assurdo allora giocatori scadenza vabbè tanto comunque abbiamo vinto il campionato quindi la stagione poi si chiuderà qui non ne dovremo fare una terza non pensavo di riuscire già alla seconda mi aspettavo più sulla terza però bello così allora ragazzi vediamo che succede vediamo ovviamente non siamo né in casa né fuori casa la finale sapete che è sul campo neutro non vorrei schipparmela ragazzi giusto per non togliere quel pizzico di curiosità che ci sta quindi vediamo la nostra squadra i guai Lewandowski Neymar dietro le punte eh no partiamo già col gol di Ames Rodriguez che qua è ancora Real Madrid maledizione dai ragazzi bravo bravo Lewandowski grande Lewandowski andiamo così andiamo così vediamo adesso 1-1 uh ancora Lewandowski mamma mia no pareggia Bale mi avete proprio fermato l'urlo di gioia dai dai così ragazzi dai così ragazzi un ultimo sforzo cerchiamo di portarla a casa Iguain e si va a vincere anche la Champions ragazzi Lewandowski Lewandowski Iguain e si vince non potevamo chiudere meglio di così questa serie ragazzi spero veramente vi sia piaciuta ci siamo portati a casa campionato di Barclays Premier League e Champions League meglio di così ragazzi tanti mi piace iscrizione al canale e noi ci vediamo in un prossimo video ciao ragazzi